buongiorno a tutti e a tutte avevo detto che non facevo video domenica e si vi amo troppo oggi vi parlo di un bel argomento che ci tengo sempre quello che dico ci tengo sempre vi parlo di charlie ebdo si di charlie ebdo e vi dico la mia se l'hanno cercato mi dispiace per i morti questo è una cosa naturale perché non sono un animale se avete ascoltato sono per la pena di morte però charlie ebdo se l'è cercata dio perché prendere in giro religione perché io sono contro la satira lo so siamo nel 2016 c'è libera espressione per oggi a tutto c'è un limite dio 3 stress a tutti c'è un limite scusate mi prendo il salvavita a tutto c'è un limite lasciateli in pace è come un bombardamento perché la francia va bombardare questo nessuno ne parla nessuno belge scusate non belge sono nato lì francia e america nessuno nessuno ne parla quando bimbi iracchiene che stanno morrendo io guardi telegiornale telegiornale in video sull'internet o sky e guardo voi no chi sono hanno più diritto i nostri bimbi di vivere no no tutte sono bimbe charlie ebdo se l'è cercata le ragazze se l'è cercata avevano ricevute menacce proiettere guardate leggete approfondite lo sparate subito una bomba si è per colpa loro ora certo l'isis è un altro chi 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 cazzo ha affondato l'isisi al caida il signor dell'america certo perché c'è la sadam e un attimo c'è un buco c'è la sadam hussein e l'altro caola non ci penso ma neanche per allungare certo per il petrolio sì 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 ieri ho letto un articolo sadam hussein l'aveva previsto perché peccato che non lo so mettere dentro il commento sadam hussein aveva previsto tutto sì meglio una dittatura controllata come la cuba ca che come era cosa come voglio dire come era l'iran e l'iraq ora dove siamo cazzo dove siamo abbiamo i terroristi grazie a chi grazie l'americana del cazzo porco dio e voi e voi e voi americana 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 ma che non ci rompere il cazzo se americana si sono ingazzato contro l'americana si credono i patroni del mondo basta perché ci hanno salvato per la guerra basta ormai fra vent'anni e cent'anni e ancora le dobbiamo leccare il culo no no passiamo con la russia solo lei combatta terra lì le americane francese aerei bombardone ciao ciao la russia no a truppe di terra viv Putin 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 è un grande è un grande Putin si un grande mi dispiace per i gay che contro i gay beh non diamo tutte perfette questo mi dispiace perché perché come ho detto a me non disturbano i gay sono una macchina perfetta dai qualche giorno farò sì o no essere sindaco vorrei vedere tanto sarebbe mille o meno mille mille volte meglio il mio paese paesino 3.000 abitanti neanche 2.000 abitanti io farei un fiore un fiore di paese sindaco sveglia prende esempio sì ecco e voi cosa ne pensate del charietto voglio sapere la vostra si se l'hanno cercato ragazze non ripeto sì 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 se l'hanno cercato hanno ricevuto un sacco di cose sono sicuro hanno ricevuto un sacco di avvertimenti loro continuano continuano perché se a me qualcuno mi dice stai attento sto attento loro lo sa lo sapete il loro dio è sagro basta ora non lo so dove pensa a Napoli ci sta succedendo un casino non le vogliono ma vero che non è giusto bloccare le strade per brega per pregare dai io non vado in chiesa semplicemente vi dico per il motivo qua me pezzo in tutta italia prendete nistoria venite alle 10 la domenica un corso di sfilata chi è il più bel giovello chi è il visone chi è staccato la coppola di minghia cazzo è così io si voglio entrare in chiesa così così e penso se vado così non mi fanno entrare l'altro giorno mi è successo una cosa il prete non mi ha voluto patate no scusa non mi ha voluto un attimo un attimo un attimo non mi ha voluto confessare sono ingazzato perchè perchè ho questo perchè ho questo si voglio confessare ma tu hai la testa dura questo così va vedono questo video vedono ok buona domenica prendete c'è rieddo non sono cazzate è stato loro colpa per i morti mi dispiace però però c'è un però mai mai sfottere qualcuno prendete il mio caso un semplice caso io poterlo se qualcuno prende in giro il mio fratello che è invalido credete che se la passa liscia non prende qualche cazzata c'è ovvio e così è dobbiamo vivere per la pace ragazzi tutti per la pace giappone gianese gianese sarò ripetitivo l'olanda vedete si può fare tutto gianese 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 io penso che se la sanno cercata ok avrò tante critiche ora penso mi diranno bastardo di qua di là tanto questo mi fa crescere ok ragazzi vi saluto domani non so se faccio un video per oggi è tutto che lo swapo sia con voi questo salva la vita salva la vita ora sono a zero di nicotina vi spiego in un attimo zero di nicotina basta un pummo più sigarette pummo vapore salve